Kylie Jenner è già pronta a lanciare una linea pre-mamman Kylie Jenner è incinta di quattro mesi o così si dice. Assieme a lei c'è Khloé Kardashian, che con il suo Tristan non vede l'ora di allargare la famiglia e dedicarsi ai suoi piccoli. Come ogni cosa che passa tra le mani di questa famiglia allargata, però, si può stare certi che verrà escogitato un modo per trasformarlo in oro. Kris Jenner è la mente dietro il business pre-mamman. Colpo di scena, Kylie Jenner è incinta, la notizia entra nelle case di tutto il mondo e lei non conferma né smentisce. Al posto suo ci hanno pensato madre, sorelle e padre che hanno fatto capannello attorno a lei e la proteggono dagli schermi e dalle male lingue. L'ultima notizia a tal proposito riguarda Kris Jenner, che a quanto pare non vedrebbe l'ora di monetizzare sulla gravidanza di Kylie, trasformandola in un, ennesimo, business multimilionario. Questa volta, l'idea è quella di creare una linea di abbigliamento dedicata alle ragazze incinta e alle giovani mamme. Kris Jenner, manager, mamma e responsabile di Kylie, avrebbe già fatto i primi passi in tal senso. O così si dice. Questa notizia arriva in un periodo di bufera in cui si vocifera che Kylie fosse già pronta da qualche anno ad avere un bambino, e che la prima volta l'idea l'aveva sfiorata quando stava contiga. Fortunatamente, la 20enne era stata prontamente fermata dai suoi familiari, che la hanno riportata alla realtà. Con Travis Scott, però, è tutta un'altra storia, e a quanto pare tutta la famiglia non vede l'ora di dare il benvenuto al loro figlio. Cosa c'è di vero nella linea prima Manghi-Kylie e Jenner?. Di fatto, non sappiamo se questa notizia sarà resa ufficiale. A quanto pare, però, Kris Jenner avrebbe già tutte le idee in chiaro per trarre un profitto da questa faccenda, e vorrebbe mettere in piedi una linea di abbigliamento. Kris è così felice per Kylie, ha rivelato un insider al Tessun, non solo perché diventerà di nuovo nonna, ma perché questa situazione apre una serie di meravigliose opportunità di business. Kris sta già pensando ad una linea di abbigliamento pre-mamane per mamme giovanissime, e sta già organizzando qualche appuntamento per concretizzare l'idea. Del resto, Kylie e Jenner ha dato prova nel tempo di essere la perfetta testimonial per i suoi brand. Solo negli ultimi 18 mesi, Kylie e Cosmetics ha raccolto profitti per circa 420 milioni di dollari, e possiamo solo immaginare quello che succederà quando, e se, le Jenner faranno il grande passo verso la moda pre-mamane. Intanto, i numeri continuano a salire, le previsioni di crescita di quest'anno ammontano al 25, e dentro la fine del 2017 probabilmente Kylie sarà una donna da 386 milioni di dollari. La domanda, ora, è la seguente, quando si deciderà la piccola di casa Jenner a ufficializzare la gravidanza.